Abbina una facilità di corsa, una certa esplosività ad una buona conduzione della palla. Vi faccio vedere anche questa manovra. Qui praticamente fa una sorta di corsa box to box. Non è tutto oro quello che luccica. Abbiamo diversi problemi per quanto riguarda un fondamentale tecnico. Ed anche al Milan qualcosa si sta muovendo. Oggi infatti parliamo dell'arrivo di Loftus-Cic in quel di Milano. Sponda ovviamente rossonera, un arrivo accolto se vogliamo in maniera tiepida. Giocatore che per alcuni è veramente valido, per altri già si sente la mancanza di Maldini. Come sempre ragazzi durante l'analisi analizzeremo pregi e difetti del ragazzo e vedremo se può dare effettivamente una mano alla causa milanista. Come sempre vi aspetto qui in basso nei commenti per conoscere le vostre letture. Ma prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche e lasciare un like al video che ovviamente aiuta sempre. Passate sui miscouting invece per quanto riguarda tutti gli altri social. Il sito internet per i corsi di match analysis e scouting. Se volete fare questo di lavoro e diventare quindi osservatori, match analyst, data analyst, ultimi posti per i corsi dei prossimi mesi, trovate tutte le info qui in basso in descrizione. Formazione, accesso ad offerte di lavoro nel mondo del calcio, accesso a programmi professionali. Ragazzi, se vi va, vi aspettiamo. Trovate i link anche di tutti gli altri social, ma, ma, ma. Parliamo dell'amico, del fratello, del padre, vai, esageriamo, Loftus Chic, che appunto arriva in quel di Milano. Profilo interessante secondo me nel momento in cui riesce ad inserirsi in quello che è il meccanismo del Milan ed attenzione della Serie A ci arriveremo durante l'analisi profilo del 96, che ha una carriera, se vogliamo, particolare, perché nasce a Londra e non si sposta praticamente mai dalla capitale inglese. Infatti, dopo essere cresciuto nei giovanili del Chelsea ed aver esordito in prima squadra, si è spostato prima in prestito al Crystal Palace, sempre a Londra, poi di ritorno al Chelsea, poi un'altra esperienza al Fulham per poi tornare nuovamente al Chelsea. Quindi, evidentemente, è sempre stato bene a Londra, prima però, di trasferirsi in Italia. Quindi, un profilo che sicuramente ha avuto delle esperienze, ha avuto esperienze anche in squadre di alto livello, anzi, anche in una squadra di alto livello, il Chelsea, che secondo me sicuramente può dire la sua. Ma, come sempre, ragazzi, per iniziare con i dettagli, spostiamoci su qualche dato, appunto, del ragazzo, che fisicamente, ripeto, è una presenza imponente. Alto 1,91 per 88 kg, lì nel centro del campo, sicuramente, ragazzi, si fa sentire, e vi dirò di più, durante le varie fasi di gioco. Ma ci arriviamo piano piano. Classe 96, ha 27 anni, paese di nascita, Inghilterra. Ha il passaporto anche del Guyana, quindi, ragazzi, un dettaglio burocratico in più che vi faccio conoscere. Per quanto riguarda i passaggi dell'ultima stagione, ha avuto una media di 45,99 passaggi in media per partita, con una percentuale di successo molto alta. Ragazzi, parliamoci chiaro, 87,9% non è una percentuale di precisione dei passaggi che si vede tutti i giorni, devo anche dire, però, che non è che si assume chissà quanti rischi. Fatto sta che la percentuale di passaggi accurati rimane molto alta. Infatti, una statistica che va a contestualizzare il tutto, quella successiva, riguardante i passaggi filtranti, una media di 0,3 passaggi filtranti in media per partita. Di questi pochissimi passaggi filtranti, solo il 14,3% è risultato vincente. Quindi, qui già capiamo che, insomma, l'ultimo passaggio non è che, insomma, ce l'ha, chissà quanto, per quanto riguarda le proprie caratteristiche principali. Dribbling, 3,28 in media per partita, 56% vincenti. Duelli difensivi, anche qui si fa sentire, 4,71 duelli difensivi in media per partita, 67% di vittoria in questo tipo di situazione. Intercetti, anche qui, intercetta una media di 3 passaggi e mezzo circa per partita. Occhio alle palle perse, perché qui non un numero grave, ma neanche un numero bassissimo. 8 palle perse in media per partita. Per capirci, De Keteler ne ha più di 9 in media per partita. Ultimo step di questa analisi iniziale, guardate la mappa di calore. Giocatore che opera nella zona centrale del campo, sicuramente si fa vedere nelle zone avanzate. Occhio, perché parliamo della heat map del Chelsea, che comunque è abituato ad attaccare, ma anche quando deve rinculare un minimo il giocatore. Sicuramente è presente. Quindi le statistiche ci fanno capire qualcosa. Non tutto sicuramente, qualcuno potrebbe avere ancora qualche dubbio, ma vi vengo incontro. Infatti chiamiamo in causa la nostra amatissima lavagna tattica per scendere ulteriormente nel dettaglio. Lo vediamo lì. È un giocatore che, lo vedrete spesso in quella zona di campo, dialogare bene con i compagni. Secondo me è bravo a ritagliarsi spazi interessanti per poter ricevere e poi sviluppare la manovra. Da quel punto di vista è sicuramente un giocatore utile. Secondo me può essere d'aiuto per quanto riguarda la fluidità della manovra. Ripeto, se dovessimo aspettarci il nuovo Iniesta, io vi dico relax, calmi, un po' calmi tutti. Ma, d'altra parte, non ci si può aspettare un giocatore pigro nella zona centrale del campo. Tutt'altro, a me piace abbastanza per quanto riguarda la lettura delle varie situazioni. Passaggio abbastanza preciso. Bella stecca, non è un giocatore noioso da quel punto di vista. Giocatore, centrocampista, che sa il fatto suo. Ve lo faccio vedere all'opera. Eccolo lì. Ricevere questa palla, effettuare il passaggio, liberarsi nuovamente, ricevere un'altra palla e servire il compagno di squadra che si sta smarcando. Quindi, sicuramente, il suo compito per quanto riguarda la fluidità della manovra della propria squadra, secondo me, lo svolge abbastanza bene. Ripeto, non urlerei al miracolo, occhio, ma comunque un giocatore che aiuta. Parliamo invece di un'altra qualità dal punto di vista tecnico, cioè la conduzione. Abbiamo visto statistiche positive per quanto riguarda i passaggi. Un numero di successo di dribbling, anche in questo caso, secondo me, positivo. Tutto sommato, parliamo di un centrocampista centrale che può fare anche il trequartista. Vedremo poi al Milan dove verrà utilizzato prevalentemente, ma un giocatore che ha anche un bello strappo palla al piede. Fisicamente è dotato, è decisamente esplosivo. Un giocatore che, quando decide di partire, può farlo in maniera importante. Non un qualcosa, anche qui voglio mettervi in guardia, non un qualcosa che si vedrà sicuramente di partita in partita. Per citare un'altra stella dell'epoca d'oro del Milan, non è il nuovo UEA, ma anche lì abbina una facilità di corsa, una certa esplosività ad una buona conduzione della palla. Sicuramente un giocatore che anche lì può far vedere, insomma, robe interessanti. Vi faccio vedere anche questa manovra. Qui praticamente fa una sorta di corsa box to box, cambia zona del campo in maniera rapida un giocatore che ha gamba. Ripeto, l'esplosività sicuramente è un fattore importante. Bisogna regalargli fette di campo importanti. Nello stretto lì già qualcosina in meno, secondo me, insomma, la possiamo notare. Ma in campo aperto, se riesce ad esplodere nei primi metri, è veramente complicato fermarlo. Occhio anche alla parentesi difensiva del giocatore. Lui mi piace da quel punto di vista perché è un giocatore attivo, è un termine che uso spesso per quanto riguarda questo tipo di calciatore. Non è un giocatore, non è un centrocampista che, datemi la palla e gioco, ma quando non ce l'ho, ragazzi, recuperatela, va. Ci vediamo dopo quando la squadra recupera il pallone. No, 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 si impegna, si dà da fare, in questo caso, in questo fermo immagine, vediamo una corsa a rientrare per recuperare posizione, recuperare palla in scivolata, lo vedete lì, sdraiato per terra, e far ripartire la propria squadra recuperando questo possesso. Quindi aspettatevi sicuramente un giocatore attivo, anche perché fisicamente, ripeto, è abbastanza imponente. Ma, 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 come sempre, come sempre, non è tutto oro quello che luccica, perché lo abbiamo visto anche statisticamente, abbiamo diversi problemi per quanto riguarda un fondamentale tecnico specifico. Mi riferisco, ovviamente, all'ultimo passaggio. È un giocatore che, per quanto riguarda l'ultima fetta di campo, ha giocato anche come trequartista, anche come attaccante esterno, ma nell'ultima fetta di campo, ragazzi, fa veramente fatica durante l'ultima stagione. Zero gol, zero assist, ma a me il fattore gol non preoccupa più di tanto, ma, se parliamo degli assist forniti, dei passaggi filtranti, abbiamo visto che, innanzitutto, ci prova relativamente poco, e quando ci prova, la precisione è molto bassa. Ripeto, è un giocatore che, comunque, si fa vedere nelle zone avanzate del campo, ma quando riceve palla proprio in queste zone, ragazzi, insomma, qualche indecisione ce l'ha. In questo caso, conduce palla, si accentra in maniera corretta, sì, magari il compagno di squadra non si inserisce in maniera celere, ma tende a perdere almeno un tempo di gioco, concedendo ai difensori di poter leggere in maniera facile l'azione che sta provando a creare. Tutto ciò si traduce in situazioni come queste, lo vedete, esplosivo nei primi metri, guaragna spazio, poi prova questo passaggio in verticale, difensori che la intercettano in maniera, insomma, abbastanza facile. È un giocatore che, quando arriva lì davanti, insomma, fa crollare in maniera preoccupante, a volte, il tasso di pericolosità. Secondo me, può guadagnare livello da quel punto di vista, ma lo vedrei comunque meglio lì a macinare lavoro per quanto riguarda la fase di sviluppo della manovra, e anche per quanto riguarda la fase di non possesso. Aspettarsi grandi manovre nell'ultima zona di campo da questo ragazzo, secondo me, insomma, potrebbe essere un errore. Occhio perché l'inserimento è fondamentale, perché dal punto di vista fisico, secondo me, in Italia, in Serie A, potrebbe dire la sua e tutta una questione di ambientamento. Ma come sempre, questa è solo la mia lettura. Ovviamente, sono curiosissimo di conoscere le vostre opinioni, vi aspetto qui in basso nei commenti per parlare di questo ragazzone. L'analisi tattica di oggi finisce qui, come sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e condividetelo se vi va, è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi. Un salutone e al prossimo appuntamento. Fisicamente è importante, e questo se si gala nella realtà della Serie A può spaccare tutto. Però, però poi per quanto riguarda il resto, occhio, perché non è il centrocampista definitivo. È una questione di usarlo bene. Fisicamente jednak Fisicamente Fisicamente Europa Se a vedere Se a vedere Fa